Un aereo militare russo è stato abbattuto in Siria vicino al confine con la Turchia, a riportarlo all'agenzia TASS citando la TV turca Habertuk. Secondo testimoni citati dalla CNN turca, i due piloti sono riusciti a lanciarsi fuori dal velivolo con il paracadute. Uno dei due sarebbe però stato catturato dalle milizie turcomanne anti-Assad, mentre l'altro risulta ancora disperso. Il jet sarebbe stato abbattuto da aerei militari turchi per aver violato lo spazio aereo di Ankara. La TV Habertuk ha mostrato in un video il momento della caduta del velivolo in territorio siriano, nel villaggio di Hamadi, nella zona di Latakia.